Salve, un cordiale saluto da Luigi Verciaroli e benvenuti nel nostro appuntamento di 7x4, il magazine multimediale delle Marche, il nostro progetto di comunicazione, come ripetiamo ogni settimana dal 1997, non ho più nemmeno contatto alle puntate, ogni settimana siamo qua, vi raccontiamo mettendoli insieme i fatti nazionali con quelli internazionali e con quelli locali, con un clic, quello del telecomando avete la possibilità di poter seguirci e di conoscere bene le tematiche. Entriamo subito nel vivo della puntata di questa settimana, credo che si andrà avanti ancora per parecchio per quanto riguarda il discorso sulla manovra finanziaria, qualcuno dice l'Italia sta prendendo tempo perché poi ci sarebbe un'abile mossa di contabilità, suggerita poi dalla ragioneria dello Stato, in cui traslando di qualche mese poi si spostano 2, 3, 4 miliardi e tutto questo farebbe digerire meglio alla Unione Europea la nostra manovra finanziaria. Una manovra finanziaria che molti condannano, colpiscono in maniera dura e pesante perché non ci sarebbero le necessarie risorse per gli investimenti, io però vorrei rifarmi anche all'articolo 3 della Costituzione italiana dove nel secondo comma si cita la necessità di mettere tutti sul piano politico e sociale, soprattutto sociale ed economico, non dico sullo stesso piano anche se quella è l'ambizione della Costituzione, ma se non altro non avere sacche di enorme differenza, questo è quello che si intende in questo secondo comma dell'articolo 3, mi sembrerebbe che l'Italia attualmente vive una necessità primaria e credo che risolvere soprattutto la difficoltà oggettiva di 5 milioni di poveri, che poi qualcuno dice sono addirittura 10, sarebbe forse la prima necessaria attività che dovrebbe svolgere lo Stato italiano. Molti dicono allora arrivaci direttamente con gli investimenti però diventa una questione di tempo, la domanda che io mi pongo, magari qualcuno di voi ha la risposta, io ok, delibero un finanziamento, aspetto che il finanziamento vada maturità, quanto tempo passa? Un anno? Due anni? Tre anni ad andar bene? Ok, e nel frattempo quei tre anni cosa fanno quelle 10 milioni di persone? Questa è la domanda che io mi pongo, ma da normale cittadino, non da esperto? Poi ci sono gli esperti che ci daranno sicuramente delle risposte e non credo nemmeno che basti uno o due punti del cuneo fiscale per dare una mano a quelle piccole imprese che non assumono perché poi non hanno la capacità di poter prendersi in toto il peso di un dipendente, uno o due punti gli fanno ben poco, credo che ci dovrebbe essere una manovra un pochino più consistente in questa direzione. Comunque, detto questo, ma è una considerazione del piccolo povero cittadino che non ne capisce nulla di economia, entriamo nel vivo della puntata di questa settimana partendo subito con il primo servizio. Sono passati ormai due anni dalla scossa del terremoto del 24 agosto e due anni anche da quella di ottobre. Stiamo un pochino facendo il dato consultivo di quello che è stato fatto in questi 24 mesi. Addirittura c'è stato il commissario Tajani che è venuto a trovare i territori terremotati. Il commento non lo faccio io, lo lasciamo fare a lui. Noi viviamo in contemporanea tre tempi. Il presente del passato, che è la storia. Il presente del presente, che è la visione. Il presente del futuro, che è l'attesa. Come Universitas abbiamo il grande compito di alimentare questa vostra attesa. Passato, presente e futuro. Con quest'ultimo, che è il profumo dell'Europa. Sono questi gli scenari evocati dal Rettore dell'Università di Camerino Claudio Pettinari durante la cerimonia di inaugurazione del 683esimo anno accademico. Il suo intervento, chiuso con una sublime citazione di Sant'Agostino. All'inaugurazione ha preso parte il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Non a caso, il tema scelto per la cerimonia è stato Universitas Europa. Un titolo che simbolicamente riassume il legame inscindibile tra i luoghi di cultura e di sapere, le universitas e la mission che li contraddistingue, in Italia e nel mondo. Con il respiro e la caratterizzazione europei che essi devono avere ed assumere sempre di più, ha detto Pettinari. L'Unione europea vicina alle istituzioni e ai giovani. È questo il messaggio che porta il presidente Tajani nei territori feriti dal sisma. Bisogna certamente migliorare il rapporto con i cittadini. Abbiamo rifinanziato Erasmus, che è uno strumento per far conoscere meglio Europa e permettere ai giorni di studiare in diverse università. Abbiamo anche finanziato Erasmus per giovani imprenditori, che è un'opportunità che diamo ai giovani di poter avviare attività imprenditoriali. Questo è il problema dei problemi, la formazione e la capacità poi di poter esprimere le proprie capacità. Questa è un'altra risposta che abbiamo dato. Abbiamo investito nel prossimo bilancio comunitario circa 120 miliardi di euro nel settennio 2021-2027 per innovazione e ricerca. Questo è un segnale di fiducia anche verso le università. L'apertura anno accademico a Camerino sono tre anni che ha delle belle presenze, perché abbiamo avuto il presidente del Consiglio, il presidente della Repubblica, adesso il presidente del Parlamento europeo. Dal punto di vista simbolico è il segno di una grande presenza delle istituzioni che sono consapevoli che qui si riesce a raccontare in maniera forte quello che è successo nelle Marche. E la riscossa dell'Università di Camerino, il suo modo di reagire alle difficoltà, aver mantenuto gli studenti, essere stati in grado di garantire le lezioni, di non perdersi mai d'animo pur nelle difficoltà, è un fatto molto forte. La presenza, la vicinanza di queste istituzioni non può che aiutarci, darci fiducia per il lavoro che tutti i giorni facciamo insieme alle università, insieme ai sindaci, insieme al territorio, con l'obiettivo di vedere queste opportunità, questa terra veramente rinascere. Questo l'auspicio di Ceriscioli, ma la realtà della ricostruzione è decisamente più triste, non solo le polemiche per i disagi delle casette marce, ma anche un panorama bloccato dalla burocrazia. Purtroppo non è cambiato nulla dalla mia vista, che è più di un anno fa, questo è un motivo di proprio grande tristezza, continuerò a spingere perché la burocrazia faccia il suo dovere, è un problema soprattutto di lentezza burocratica, di carte che passano ufficio ad un altro, non è giusto, non è rispettoso nei confronti di cittadini italiani che hanno subito una ferita così profonda, è facile venire qua il giorno dopo il terremoto e poi non spegnere i riflettori, i riflettori devono continuare a essere accesi finché non si risolvano i problemi. E speriamo che si possa risolvere questa questione della ricostruzione, ricostruzione che vede un tappo quello della burocrazia, i sindaci dei crateri si lamentano del fatto che vorrebbero avere un pochino più poteri e qualcuno, in particolare il sindaco di Camerino dice dovremmo anche diversificare le richieste e le condizioni dei comuni che appartengono al cratere perché sono differenti tra loro, insomma ci sono una serie di cose che devono essere ancora messe a punto, vedremo nel futuro. Giriamo pagina, parliamo di politica, c'è è in giro per l'Italia da qualche settimana e giovedì 29 novembre è arrivato nelle Marche con il suo libro dal titolo La sfida in populista e l'ex premier Paolo Gentiloni che insieme al direttore dell'Espresso Marco Damilano e al presidente del consiglio regionale delle Marche Antonio Mastro Vincenzo ha presentato nell'auditorium ex Fiera della Pesca di Ancona la sua proposta politica che ha due obiettivi, ripartire e tornare a vincere. Un Gentiloni che ha affrontato in un dibattito i diversi temi che hanno caratterizzato i suoi quasi quattro anni al governo, prima come ministro per gli affari esteri e poi come presidente del consiglio. Non è mancata una raffinata analisi dei rapporti tra Italia ed istituzioni europee. Ad un certo punto Gentiloni ha citato Renzi quando disse che era tempo di andare a Bruxelles e battere i pugni sul tavolo. Quella che sbatteva i pugni sul tavolo a Bruxelles era Margaret Thatcher negli anni Ottanta quando era sentita la tematica della negoziazione degli accordi economici. Oggi, dice Gentiloni, non è più il tempo di avere questo atteggiamento. E ancora le parabole politiche di Tsipras e Orban come esempio illuminante. Il premier greco era considerato l'idolo della sinistra radicale. Oggi viene definito traditore da chi lo aveva sostenuto nella battaglia contro la Troica. In questi anni però è riuscito a salvare la Grecia con manovre durissime per il suo paese. Forse perderà le prossime elezioni, ma intanto, dice Gentiloni, ha salvato dal tracollo una nazione e oggi è considerato uno dei principali leader europei. Al contrario Orban, primo ministro ungherese, amatissimo dalla gran parte del suo popolo, ma in Europa non è visto affatto bene. Gentiloni si è soffermato ancora sulla Grecia portando come esempio i governi che hanno preceduto Tsipras, quelli che hanno falsificato i numeri dei conti dello Stato, portandolo sull'orlo del baratro. La lezione di questi anni, e questo è il monito di Gentiloni, è che giocare con i numeri, vedi i numeri della crescita economica in Italia nell'attuale governo gialloverde, alla lunga porta solo al disastro. Gentiloni nel suo libro si sofferma sul perché del fallimento del PD alle elezioni e non risparmia critiche alla sua parte politica. Sul patriottismo la sinistra ha molto da recuperare rispetto alle altre forze politiche, sostiene Gentiloni, che non ha neppure nessun problema a dire che sì, l'Italia ha bisogno di migranti per sostenere l'economia del futuro. Tempi surreali, secondo Gentiloni, sono quelli per avere un nuovo segretario del PD, ma ormai le cose sono andate in questo modo. E per il nuovo leader, chiunque gli sia, Gentiloni ha una posizione che vuole indicare in modo chiaro. Teniamoci stretto questo partito e guardiamo senza timore alle alleanze perché il ruolo del PD, secondo Gentiloni, è quello di catalizzatore per le forze e i movimenti di opposizione a questo governo e a quella che l'onorevole definisce l'ideologia nazionalpopulista. La sfida in populista vuol dire innanzitutto rendersi conto di come la minaccia di questa onda nazionalista e populista che non riguarda solo l'Italia va presa sul serio, perché purtroppo non produce solo danni e conseguenze economiche, ma anche mette in discussione alcuni principi delle nostre democrazie liberali. Si comincia a discutere di libertà di espressione, di diritti delle minoranze, di rapporti con gli stranieri, di nazionalismi tra stati. Quindi, primo, rendersi conto dei pericoli e non sottovalutarli. E secondo, però, neanche inseguire questa onda populista, illudendosi di poter usare gli stessi metodi, quello sarebbe un errore. Quindi la sfida per il Partito Democratico invece è di puntare sulla sua credibilità, sulle sue capacità di governo e riprendere contatti con il popolo, con la gente, con i problemi delle persone che in anni di governo abbiamo un po' sottovalutato. Secondo lei questa sfida rientra anche nel trovare degli alleati per formare una coalizione? Certo, perché con l'attuale legge elettorale, con il sistema proporzionale, non può esserci più il partito che prende tutte le correnti di opinioni progressiste e democratiche. Bisognerà mettere in piedi un'alleanza e sarà un bel lavoro. Domenica ci sono le primarie del Partito Democratico, vedremo come il Partito Democratico saprà essere impopulista, lo seguiremo con attenzione. Andiamo avanti, parliamo a questo punto della giornata contro la violenza verso le donne. C'è stata un'interessante manifestazione a Senigallia, l'abbiamo seguita con molto interesse. 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Una ricorrenza voluta dalle Nazioni Unite nel 1999 che ogni anno si rinnova e viene declinata nei territori. Tanti in Italia gli eventi e le manifestazioni a sostegno di questa giornata. In particolare il Comune di Senigallia ha proposto un ricco programma di iniziative di riflessione e sensibilizzazione intorno al tema della violenza di genere, realizzato in collaborazione con le associazioni locali, il Consiglio delle donne e le consulte comunali dello sport, del volontariato e degli immigrati. Il momento clou della manifestazione è proprio domenica 25 novembre con la fiaccolata Yes, We Life contro la violenza di genere promossa da Comune di Senigallia, Consiglio delle donne, Associazioni al Femminile, Panathlon e Consulta dello Sport. Una fiaccolata rimandata solo a causa del maltempo, ma il messaggio che proviene dai tanti partecipanti e dalle istituzioni è stato chiarissimo. La città di Senigallia aderisce ai 16 giorni arancioni indetti dall'ONU, quindi 16 giorni importanti, il culmine dei quali è il 25 novembre, la giornata di oggi, giornata dedicata all'eliminazione della violenza di genere. Oggi simbolicamente, perché il tempo non ce lo permette, doveva essere una fiaccolata che toccava tutte le piazze del centro storico, ma ci appostiamo qui al Foro Nonarios, nei locali della pescheria, per dire no alla violenza. Partecipano con noi il Panathlon Marche, la Consulta dello Sport, la Consulta degli Immigrati, le Associazioni Femmini del Territorio e tutto il tessuto cittadino. Quindi la città di Senigallia tutta dice no alla violenza. È stato quello di oggi pomeriggio un evento che ha visto la collaborazione di tutte queste associazioni e che ha messo insieme un grande slogan, insieme si può vincere. È questo il messaggio che vogliamo lanciare, rompere il silenzio e riuscire in ogni modo a dar modo a ogni donna di dire che la sua vita è più importante e più significativa di qualsiasi sopruso, di qualsiasi abuso possa subire. Per cui tutti insieme possiamo dire yes, we life. Il fenomeno della violenza contro le donne è un fenomeno molto complesso e purtroppo con il tempo i dati non accennano a diminuire. Solo nella nostra regione sono state oltre 400 le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare delle violenze subite. È un dato impressionante soprattutto se si considera che solo il 20% delle violenze subite sono quelle che sono state effettivamente realizzate. Allora siccome le risposte preziose che le istituzioni hanno dato singolarmente sono state parzialmente inefficaci, la Regione Marche per prima in Italia ha deciso di firmare un protocollo con l'obiettivo di dare una risposta corale. Quindi ben vengano iniziative come quelle di oggi perché cercano di intervenire sull'aspetto culturale di questo fenomeno e complimenti quindi al Consiglio delle Donne di Senigalli e a tutta l'amministrazione comunale per averla organizzata. Letture, balli, musica e testimonianze di diverse parti di società civile che hanno contribuito a rendere la manifestazione ricca e sentita. Sono stata felicissima di essere stata invitata al 25 novembre a Senigallia in questo importante evento dove si può parlare di questo fatto sulla violenza delle donne e di come non debba mai accadere in nessun giorno della nostra vita, non solo il 25 novembre. Il 25 dovrebbe essere solo un giorno e un simbolo, un significato e noi dovremmo replicarlo in ogni giorno della nostra vita. Secondo me attraverso lo sport, perché io sono giovane e vivo in questo ambiente, i messaggi li possiamo mandare più facilmente perché siamo giovani e abbiamo anche abbastanza visibilità e quindi vorrei dire no alla violenza contro le donne. Il Panatron Club di Senigalli è stato coinvolto dal Consiglio delle Donne, facente parte del direttivo per quanto concerne lo sport nella città. Lo sport è un mezzo efficacissimo nella violenza contro qualsiasi tipo di genere, soprattutto nella violenza contro le donne. Il Panatron Club di Ancona, il Panatron International in generale è un club di valori e in quanto club service di valori non può che abberrare ogni forma di violenza, figuriamoci quella nei confronti delle donne. Quindi una partecipazione da parte del nostro club molto facile, molto semplice, molto spontanea, di cuore e credo che a Senigallia veramente questo momento sia stato celebrato in una maniera migliore perché è stato molto coinvolgente al di là del fatto che la giornata non è stata delle migliori ma è stata fatta diventare una bella giornata proprio dalla partecipazione emotiva di chi non ha voluto mancare. Siamo alla conclusione di questa bellissima iniziativa che è stata portata avanti dal Panatron anche di Senigallia con tutte le sue iscritte, la mia vicepresidente e direi che è stata una manifestazione estremamente incisiva a favore della lotta per la violenza contro le donne, ma diciamo in generale non solo loro, ma anche la lotta in generale alla violenza che viene perpetrata nel mondo contro i più deboli purtroppo. Quindi questo deve essere un forte messaggio che viene dal mondo civile e dallo sport in particolare che noi rappresentiamo. Quindi direi che abbiamo fatto un buon lavoro e speriamo che quello che è stato fatto abbia un seguito nel mondo civile. Speriamo che veramente questo appello venga accolto. Io ancora una volta dico a margine di tutto questo benvenga la giornata contro la violenza verso le donne, però io sarei contro la violenza verso tutti. Ecco mi piacerebbe vivere in una società dove non si fanno differenze di genere e la violenza non si fa, punto. Non si applica violenza, non si applicano soprusi, si è civili, insomma è il mio sogno, ognuno ha il suo sogno, io ho il sogno di una società più civile. Chiusa la parentesi parliamo di cinema e parliamo di cortodorico. La magia del cinema nel cinema. C'è questo alla base della quindicesima edizione del festival cortodorico che si terrà nel capoluogo di regione dal primo all'otto dicembre e che celebra i grandi maestri del cinema mondiale mischiandoli con i nuovi artisti emergenti in un programma più ricco che mai. Abbiamo inserbo la magia perché questo sarà il tema di quest'anno, la magia del cinema ovviamente declinata non come pura illusione ma come elemento cardine non solo per recuperare tante chicche che ci saranno del passato ma proprio quello di creare un ponte con il presente il contemporaneo e se possibile anche il futuro. Per quanto riguarda i temi cardine su cui è costruito il festival quest'anno ci sarà un omaggio al realismo magico italiano con due film addirittura recuperati in pellicola, ci sarà un omaggio con una sonorizzazione live fatta da un bravissimo pianista dedicato a uno dei grandi pionieri del cinema, il grande illusionista Georges Méliès ci sarà un omaggio a quello che è da tutti considerato il mago del cinema, Orson Welles con tre film che saranno riproposti in sala e con una riattualizzazione, riedizione assolutamente concepita e realizzata per il festival cortodorico della guerra dei mondi firmata a Vincenzo Latronico che è il traduttore. Altre novità, Oli Unidi Short che è un concorso di corti internazionali con corti che vedrete per la prima volta in Italia, sottotitolati in italiano per l'occasione da noi e sono corti che sono stati selezionati e hanno vinto festival come Venezia, Cannes e Locarno. Tra le novità più interessanti di questa edizione interamente ospitata dalla mole vanvitelliana c'è senz'altro il Casa Blanca Caffè. Una sorta di spazio all'interno della mole dove si svolgerà tutto il festival perché questa forse è la più grande delle novità all'interno di tutta una serie di spazi, non sarà solo l'auditorium, Casa Blanca Caffè dove avremo la possibilità proprio di creare tutta una serie di eventi con un pianoforte, con dei concerti, con la possibilità di vedersi dei corti come se fossero delle scenografie visive e soprattutto quello di poter bere, mangiare all'interno di un contesto che ricorderà il cinema del passato e nello specifico un film cult come Casa Blanca, il film con Humphrey Bogart. Oltre alle proiezioni e i momenti di discussione per i visitatori, Cortodorico è anche un appuntamento imperdibile per gli addetti ai lavori, registi, filmmakers, sceneggiatori. Sì perché al solito il punto di forza in Cortodorico che ovviamente è confermato è quello del concorso con la semifinale il primo giorno, il primo dicembre, la finale l'otto dicembre il concorso dei corti italiani con la presenza ovviamente dei cortisti finalisti e salti lungo con la presenza degli autori che hanno realizzato la loro opera prima ed è una conferma rispetto allo scorso anno con due eventi, un film d'apertura e un film di chiusura, a proposito del film di chiusura che sarà sulla mia pelle il film dedicato alla figura di Stefano Cucchi avremo anche gran parte degli ospiti, per quest'anno c'è una giuria qualificatissima e di cui andiamo molto molto fieri, avremo Jasmine Trinca in giuria che era appunto Ilaria Cucchi, Matteo Cocco che è il direttore della fotografia di quel film e avremo a cappeggiare questo duo Matteo Rovere che registra un film ammatissimo come Veloce come il vento di Stefano Accorsi nonché produttore di Smetto quando voglio. Masterclass e workshop, masterclass di fotografia con Matteo Cocco l'otto dicembre, apriamo il primo dicembre con un workshop con Giacomo Ciarapico che è uno degli autori di Boris che lavorerà proprio con chi si iscriverà sul fare una sceneggiatura, su come costruire una sceneggiatura e sicuramente sarà un appuntamento molto molto qualificante ma anche molto divertente visto insomma il tono di Boris. Il programma è vastissimo e per tutte le informazioni c'è il sito internet. www.cortodorico.it c'è anche la mail info-cortodorico.it per eventuali richieste magari più specifiche. Ottima iniziativa quella di Cortodorico e speriamo prima o poi di far sposare la produzione cinematografica locale anche al nostro canale, il 210 del digitale terrestre. È un sogno che ho, un altro sogno. Come si diceva in un famoso film, chi smette di sognare è destinato a morire, quindi noi sogniamo tutti i giorni ad occhi aperti. Io nel frattempo vi ringrazio, vi saluto, vi ringrazio per averci seguito, ringrazio la nostra redazione giornalistica e tutta la parte tecnica, vi aspetto qui la prossima settimana. Ciao!